Ciao a tutti, io sono Domenico Di Menù, un commercialista di Lanciano in provincia di Chieti. L'edizione di oggi è una lezione che sta partendo da delle basi teoriche, che si sta sviluppando in maniera molto pratica, che poi fondamentalmente è quello che interessa a noi per la nostra professione. E questo sta cambiando anche il mio modo di approcciarmi alla professione e quindi anche ai clienti presenti, spero potenziali. Perfetto, la cosa che più ti ha colpito? Sicuramente l'aspetto pratico sia di questa edizione che del percorso Master Bank. Perfetto, grazie mille.